Ciao prima di iniziare metti un mi piace e premi il tasto iscriviti. I passeggeri del sottomarino Titan hanno subito un destino tragico, poiché la guardia costiera conferma un'orribile implosione. È stata una conferenza stampa carica di tristezza e incredulità in cui la guardia costiera degli Stati Uniti si è rivolta ai media riguardo al sottomarino Titan scomparso. I rottami trovati vicino ai resti del Titanic sono stati confermati appartenere alla sfortunata imbarcazione, portando a speculazioni che il sottomarino abbia subito un'implosione catastrofica, con la perdita dell'intero equipaggio. In una dichiarazione ufficiale, la Ocean Gate, l'azienda dietro il Titan, ha espresso la convinzione che tutti i passeggeri a bordo abbiano perso la vita. La conferenza ha fornito alcuni aggiornamenti sul sottomarino Titan, disperso dal 18 giugno. Secondo quanto riferito dalla guardia costiera, i detriti scoperti a circa 500 metri dai resti del Titanic sono compatibili con un'implosione catastrofica. Hanno segnalato una perdita della camera di decompressione, ma hanno dichiarato che è troppo presto per determinare l'orario esatto dell'implosione del sottomarino. La guardia costiera ha anche rassicurato che continuerà a ispezionare l'area in cui sono stati trovati i rottami. Nella speranza di raccogliere ulteriori informazioni su questo tragico incidente. Questo avvenimento impensabile ha scosso il mondo e ha lasciato molte domande senza risposta. Grazie. 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 Grazie.